Siamo con Renato Perrini, candidato al Consiglio regionale pugliese con Fratelli d'Italia, candidato presidente Raffaele Fitto. Uno degli ambiti di maggiore competenza dell'ente regione è la sanità. In questo campo devo dire che Renato Perrini si è speso molto, davvero molto. Non è una questione di colore politico, ma obiettivamente tante battaglie per l'oncologia di Taranto, per l'ospedale di Castellaneta, a fianco ai medici, ai pazienti. Questo è un dato di fatto, poi ognuno la può pensare politicamente in un modo, però la vicinanza alle problematiche sanitarie c'è stata. Come ridisegnare questa sanità? Perché parliamo dei diritti del cittadino, ma di un cittadino particolare, il cittadino che sta soffrendo. E quando parliamo di oncologia parliamo di tumori, parliamo del male più brutto che possa esserci. Non lo so come mi è venuto appena mi sono insediato, forse è qualcosa da una vocazione, perché io fino al 2015 non sapevo cosa fosse un ospedale, tranne qualche visita, qualche parente. Dal 2015 in poi ho dato tutto il mio tempo, compreso anche le domeniche, agli ospedali, soprattutto nel campo oncologico, dove ho conosciuto centinaia e centinaia di persone che hanno questo problema. Io ho notato le sofferenze che hanno, soprattutto i viaggi della speranza. E là, stando a loro fianco, ho lottato, sono stato vicino, ho risolto alcune problematiche serie, ma io sono stato in mezzo anche dei medici, dei primari di questi ospedali, perché da soli non si va da nessuna parte. Con la loro esperienza tecnica, la parte mia politica, anche di imbormi alcune volte in regione, qualche passo in avanti è stato fatto. Perché al Moscate, se andremo a cinque anni indietro, ricordiamo come stava il Moscate. Voglio dire, mi sono messo, se no sono andato un giorno, sono andato quasi tutti i giorni. Devo dare atto, ora lo voglio sottolineare a beneficio degli amici che ci seguono sia in tv sia sul web. Ognuno la può pensare diversamente, può votare o meno, Renato Perrini può apprezzarlo, però sul discorso sanitario è stato sempre vicino. Lo dico perché, perché per esperienza diretta, io ho perso tre mesi fa mio padre e in più circostanze di questo calvario del cammino di mio padre, nelle varie strutture, non so comiali, tarantine, devo dire davvero per coincidenza, non c'eravamo certo messi d'accordo, incontravo Renato Perrini all'oncologia di Taranto, all'ospedale di Castellaneta. Qualcuno potrà anche non credermi, però potrebbe pensare che ci siamo messi d'accordo, d'accordo, che ci eravamo messi d'accordo all'epoca, ma io effettivamente più di una volta ci siamo incontrati. Direttore, il fatto che ti stai raccontando, ne sento tante parzellette degli avversari politici che non hanno mai lavorato, la vita non sa neanche di che cosa parlano, certe volte io vado negli ospedali come vado in altre situazioni come anche in agricoltura, nelle aziende, ho sposato questa causa come una passione, una missione. C'è le cose che ho fatto, lo sanno i medici e i pazienti, il resto non è una questione di elettorale, è una questione che noi ci rimaniamo sul territorio. E fa vent'anni, trent'anni, poi i nostri nipuri andranno a leggere cose che ogni proprio non ha fatto vent'anni fa, perché ognuno deve dare conto della sua coscienza e a no alle chiacchiere. Gli ospedali stanno in una grossa difficoltà, però posso dire che in campo oncologico i passi in avanti sono stati fatti, perché alcune cose positive bisogna anche dirle, non è che è tutto negativo, perché ci sono delle situazioni che abbiamo affrontato e sono state risolte. Purtroppo ci sono tante altre cose da risolvere, c'è le liste d'attese lunghe, mancano i radiologi, mancano i medici, manca una programmazione che non è stata fatta, una programmazione che vice, caro Emiliano, di stare sempre in tv, di stare sui social, di stare a fare le passeggiate, lui è stato perennemente in campagna elettorale, doveva prevenire quello che sta succedendo in queste ultime volte. C'è un problema proprio negli ultimi giorni della terapia intensiva neonatale, che di fatto questa unità è chiusa. Ma è chiusa sì, ma anche se noi prendiamo il telefono e chiamiamo al COP, non risponde nessuno. Spesso sono stato costretto a intervenire io per risolvere alcune problematiche, perché al telefono non risponde quasi nessuno, perché sono prisi da tante altre cose, non lo so. C'è tanto da rifare, c'è questa situazione su Taranto sanitaria, perché poi non riesco mai a capire come mai a Bari le situazioni vanno discretamente a Taranto, dobbiamo fare i sacrifici, c'è sempre da fare i sacrifici a Taranto. Una delle mie battaglie in prospettiva è quella che i sacrifici non tocca più fare a Taranto, a Taranto ci deve essere un ristoro nei prossimi anni. Per Rini sarà sperando, stando in maggioranza, e naturalmente i miei colleghi lecisi e barisi del mio partito, compreso Raffaele, conoscono bene il mio temperamento, perché se da una parte sono molto leale e corretto nei rapporti, dall'altra parte voglio rispetto per la mia città. Per Rini, ora io voglio così aprire una parentesi per alcune esperienze dirette di vita vissuta. Mi sono trovato al pronto soccorso sia di Martina Franca sia del Santissima Annunziata di Taranto, ho dovuto aspettare qualcosa come 10-12 ore. Io non penso che un paziente che non è codice rosso, anche con una frattura di femore, possa aspettare ore, ore e ore. Cioè, qui evidentemente qualcosa, più di qualcosa nella programmazione circa la chiusura della struttura, delle strutture di pronto soccorso, più di qualcosa non ha funzionato come doveva. Guarda, l'ospedale di Martina Franca, un esempio, a proposito del pronto soccorso, fino a 3-4 anni fa il pronto soccorso di Martina Franca non aveva la problematica di questi ultimi anni, perché chiudendo il pronto soccorso del Moscato, si va a imbottigliare sia Martina Franca che Taranto. Martina Franca è una città a ridosso di Cisternino, di Locorotondo, di Alberobello, di Ceglie, è una città, diciamo così detto, di frontiera, non si trova al centro della provincia. Allora, questi dati bisogna anche tenere conto, perché se chiudi il Moscato, il risultato è questo, perché la gente che andava a Moscato o va a Santissima Annunziata o va a Martina. La stessa cosa per quanto riguarda Castellaneta, se tu mi chiudi Massafra, diventa anche un problema di Castellaneta, il pronto soccorso di Castellaneta si trova quasi nella provincia di quasi vicino a Matera. Allora, uno dei miei prossimi obiettivi è riaprire il pronto soccorso del Moscato, perché strategicamente si trova al centro della provincia e facilmente raggiungibile. è Massafra che si trova all'uscita di un'autostrada. In tutte le parti d'Italia un ospedale che è stato all'uscita di un'autostrada trovi subito un pronto soccorso. Già là c'è stato un errore molto evidente, dove io mi impegnerò a far riaprire soprattutto l'ospedale di Massafra e riparire del pronto soccorso e soprattutto anche il Moscato, perché aprendo questi due pronto soccorso la provincia comincia a respirare, perché se noi pensiamo che dobbiamo aspettare un nuovo ospedale che sarà pronto, non so per quanto tempo. Ora pare che circa le date sia calato il silenzio. Il Senato del Turco ha fatto l'annuncio e poi di nuovo, perché mi perdoni Perlini, io ripeto sulla sanità veramente mi incazzo, passatemi l'espressione. Qui abbiamo assistito a parecchie favole dal San Raffaele, sono cambiati i nomi dei santi, per quanto riguarda le denominazioni degli ospedali, ma questa storia dell'ospedale nuovo sta diventando veramente una favola. Ma guarda, quando abbiamo fatto il primo incontro nel insediamento di consigliere regionale, c'erano allora il sindaco Stefano, Cirapelello, Vico e ben i direttori generali a fare una relazione insieme a Emiliano, parlando del nuovo ospedale, fui l'unico, ci sono i video. Lo ricordo, lo ricordo. Io dissi che secondo loro l'ospedale enorme sarebbe stato pronto entro due anni e Taranto doveva fare ancora sacrifici. Io dissi che essendo che sono nel settore, secondo me quell'ospedale prima di dieci anni non si sarebbe fatto niente. Ne sono passate già cinque, ancora devono iniziare a mettere la prima pietra e non so quando finirà, perché il direttore generale, se dobbiamo con il ministro Emiliano fare dei sacrifici, sempre Taranto deve fare dei sacrifici, questo non l'ho mai capito. Ecco perché in attesa del nuovo ospedale all'insediamento, uno degli impegni che prenderò con la città e con i miei lettori e con tutti quanti, è riaprire il pronto soccorso del Moscato e il pronto soccorso di Massaro. Sapendo benissimo le difficoltà, che devo essere chiaro, che c'è problematica di medici, c'è una carenza molto seria di medici, però credo che abbiamo tanti medici che stanno anche fuori dall'Italia, che sono nostri concittadini, che credo che con delle offerte economiche potrebbero anche ritornare qua a fare i medici nelle proprie città. Ho anche appresso proprio che circa questa premialità che si era deciso di dare ai medici che si sono impegnati per l'emergenza Covid, è stato fatto un calcolo molto ma molto strano, cioè mille dipendenti della sanità, quindi considerando sia gli amministrativi sia i medici, diciamo quasi con una divisione per così dire forfettaria, udite udite, la premialità sarebbe di 3 euro lordi al giorno e si equipara l'amministrativo, con tutto il rispetto per l'amministrativo, al medico che stava a 10 centimetri dal malato, dalla persona malata di Covid. Penso che secondo me a questo punto o si dà una premialità degna di questo nome o forse è meglio non dare nulla, perché sinceramente umiliare un professionista che ha rischiato la vita con 3 euro lordi, che saranno sì e no forse 1 euro e 5, 2 euro netti, mi sembra veramente proprio, significa sputare in faccia, scusatemi, la professionalità di chi ha rischiato la vita. Beh, il caro Emiliano si è, diciamo, andava in tv dalla Dursa Emiliano chiamando i nostri medici, gli angeli, che li doveva premiare, secondo me avrebbe fatto meglio a non dare quel premio di 3 euro all'ora, perché secondo me fosse... 3 euro lordi, eh? Netti quando sarà? 1 e 5? Un caffè, sarà un caffè, perché i medici non hanno bisogno di queste lemosi, vogliono soltanto considerazione e soprattutto i medici, soprattutto i tarantini, vogliono questa considerazione che spesso vengono anche umiliati, perché vengono da Bari e da Brindisi a fare i primari nella nostra città. Poi c'è anche la situazione di Lopalco, massimo rispetto come esperto nell'ambito dell'epidemiologia e quant'altro, però poi si vede il professionista validissimo Lopalco, consulente della regione Puglia, che poi all'improvviso, guarda caso, viene candidato nelle liste di Emiliano e si autoproclama, o evidentemente forse anche con l'assenso di Emiliano, prossimo assessore regionale. C'è una commistione tra professionisti e politici? È evidente, perché una cosa del genere secondo me non succede in nessuna parte del mondo, quello che è successo in Puglia in questi ultimi mesi, che un consulente pagato dalla regione, cioè pagato da tutti quanti noi, ha fatto per sé sette mesi campagna elettorale e si candida alle prossime elezioni, addirittura lui potrebbe essere il nuovo assessore, così ha detto Emiliano e anche lo stesso Lopalco. Questa cosa mi sembra di stare in un film, perché un professionista non doveva prestarsi a fare una cosa del genere, perché usando il dolore poi ha usato l'immagine per crescere. Grazie per la visione!